Molto interessante, interattivo e soprattutto introduttivo in ambito di questa materia o comunque di questo argomento perché si sa che la tecnologia pian piano si sta evolvendo in modo molto espansivo e addirittura al Politecnico di Zurigo ci sono stati degli sviluppi molto ampi in questo campo Sei interessato alla tematica? Diciamo di sì, dato che provando appunto i test in ingegneria, in vari tipi di ingegneria sia fisica che meccanica vorrei arrivare appunto a Politecnico di Zurigo per appunto sperimentare cose nuove in ambito sia informatico, tecnologico sia in ambito fisico, meccanico E credi che questo laboratorio ti possa aiutare a capire meglio l'intelligenza artificiale? Diciamo di sì perché comunque avendoci introdotto i quattro punti principali dell'IA, dell'intelligenza artificiale che sarebbero appunto quelli che ha un bambino appena nato, cioè no appena nato, comunque neonato cioè quello di apprendere, di comprendere, di ragionare e poi di imparare, cioè di assimilare Quindi diciamo di sì, è molto traduttivo, possiamo dire Grazie Grazie Grazie